Coinvolgere i giovani di diversa provenienza, cultura, estrazione e religione che frequentano l'oratorio del quartiere San Salvario a Torino in un'attività didattica, culturale e formativa. E' nato così il cortometraggio The Five, interamente pensato e realizzato dai ragazzi degli oratori e da Lingua Doc Communication con la compagnia di San Paolo, presentato a Palazzo Lascaris.